Con questo corso volevo proseguire un percorso che avevo già iniziato verso la sostenibilità. Diciamo che era già uno stile di vita più rispettoso dell'ambiente. Poi io lavorando nella moda ho pensato di dover approfondire le mie conoscenze per essere sostenibile anche da quel punto di vista. E effettivamente con questo corso adesso mi sento più determinata e per me la direzione che voglio prendere è proprio questa. Tanto che inizierò un nuovo progetto di una mia linea di abbigliamento e speriamo di poterlo portare avanti nel modo più corretto e più sostenibile possibile.